Trilussa, l'indovina delle carte. Per fare carte, quanto t'ho da dare? Cinque lire. Ecco qui, vada però, che mai da dire la pura verità. Non dubitate che ve la dirò. Voi ci avete un amico che devo imbrogliare nell'affari. Non posta, perché l'affari adesso non li fa. Vostra moglie l'inganna. Ma voilà, so vedovo dal tempo del cucù. Ma rimogliate. E levate di qui, ce so cascato e non ce casco più. Vedo, surfante, un certo non so che. Le sostate, arrubate. Oh, questo sì, le cinque lire che t'ho date a te. Sì, le cinque lire che t'ho date a te. edora. Grazie a tutti.